La pioggia batteva sulle porte di vetro del prestigioso ospedale privato, con un tambureggiamento ritmico che creava un netto contrasto con la tranquilla eleganza del latio punto all'interno. L'illuminazione calda e la musica classica soffusa creavano un'aria di serena esclusività, lontana dalla dura realtà esterna punto nate, insuppato e spettinato. Stringeva una piccola figura immobile avvolta in una coperta logora. I suoi occhi, spalancati dalla disperazione, scrutarono latio mentre batteva sulla porta punto per favore, qualcuno aiuti questa ragazza. Ha bisogno di aiuto, la sua voce era roca e incrinata dalla paura.Emily, la caposala, si avvicinò alla porta con uno sguardo di pratico disprezzo. La sua uniforme bianca e pulita e i suoi capelli ordinatamente appuntati erano in netto contrasto con l'aspetto stracciato di nate punto si fermò di colpo all'ingresso, con gli occhi che si restringevano per osservare la scena. Cosa credi di fare? Chiese. Con un tono gelido punto è ferita. Per favore, fateci entrare, supplicò nate, aggiustando la coperta intorno alla bambina per ripararla dal freddo. L'urgenza nei suoi occhi era inconfondibile punto il naso di Emily si stropicciò per il disgusto. Non potete portare qui quella sporcizia. Questo è un ospedale privato. I nostri pazienti sono molto ricchi e non hanno bisogno di essere esposti a queste cose. Disse agitando la mano con disprezzo verso i vestiti sporchi e fradici di nate punto hai almeno l'assicurazione? Nate aprì la bocca per rispondere, ma Emily lo interruppe. Alzando la voce, niente assicurazione, giusto? Allora portatela in un rifugio o in una clinica pubblica. Qui non serviamo quelli come voi. Le lacrime si mischiarono alla pioggia sul viso di Nate che cercò di spiegare, è la macchina. L'auto l'ha investita. Non si sta svegliando. Emily incrociò le braccia e la sua espressione si indurì. Non capisco una parola di quello che dici. Se ne vada prima che chiami la sicurezza. La disperazione di Nate raggiunse il punto di ebollizione. Con uno scatto improvviso superò Emily e si precipitò nell'atrio. Aiutate qualcuno, aiutatela, gridò. Facendo risuonare la sua voce sui pavimenti di marmo lucido. Il volto di Emily si tinse di una furiosa tonalità di rosso e si girò di scatto, gridando, sicurezza. Portate via quest'uomo. George, una corpulenta guardia di sicurezza, si precipitò verso di lei. Con il volto confuso. Che succede? Chiese. Guardando tra Emily e la direzione in cui Nate era fuggito. Questo senzatetto è entrato di soppiatto, sbottò Emily. Portatelo via prima che contamini il posto. George annui con riluttanza, va bene. Lo troverò. Si avviò lungo il corridoio e i suoi passi riecheggiarono nei corridoi. Nel frattempo, Nate era già sparito in fondo all'ospedale. Con il cuore che gli batteva forte mentre stringeva la ragazza.Emily camminava nell'atrio, furiosa. Com'è potuto accadere? Se quell'uomo non viene trovato, saremo entrambi in guai seri. George tornò scuotendo la testa. Non l'ho visto. Deve essersi nascosto da qualche parte. Allora continua a cercare, sibilò Emily. Se non lo trovi, perderemo entrambi il lavoro. I corridoi sterili dell'ospedale sembravano infiniti. Mentre Nate, stringendo il bambino avvolto in una coperta, li attraversava incespicando. Aveva il respiro affannoso e la vista annebbiata dalla disperazione.Girato un angolo. Si scontrò con una donna in camice bianco, perdendo quasi la presa sul bambino. Uuuu, che succede? La dottoressa Wendy si stabilizzò e valutò rapidamente la situazione. Notò gli occhi frenetici di Nate e il piccolo fagotto immobile tra le sue braccia. Per favore. Ansimò Nate. È stata colpita. Non si sveglia. L'espressione di Wendy si addolcì, ma il suo istinto professionale si fece sentire. Calmati, portiamola in una stanza. Seguitemi. Guidò Nate lungo il corridoio fino a una piccola sala visite. Spingendo la porta con la spalla. Stendila qui. Disse indicando il letto. Nate si adeguò, con le mani che gli tremavano mentre posava delicatamente la bambina. Wendy diede un'occhiata alla piccola forma. Notando l'umidità della coperta e il corpo innaturalmente immobile della bambina. Cercò il polso e il suo volto si irrigidì nel constatare la freddezza. Devo prendere l'attrezzatura. Resta qui. Disse. Con tono fermo ma gentile. Mentre Wendy si affrettava ad uscire, per poco non si imbatte in George, la guardia di sicurezza. Che stava scrutando l'area con sguardo determinato. Dottoressa Wendy. Ha visto un uomo con un bambino? Emily ha detto che sta causando dei problemi. Chiese George. Con un tono urgente. Wendy esitò per una frazione di secondo. Gli occhi le tremolavano per il conflitto interiore. Ma mantenne la voce ferma. No, non ho visto nessuno del genere. Forse può controllare nella lovest? George annui e si diresse nella direzione opposta, borbottando sottovoce. Wendy fece un respiro profondo, raccogliendo la sua determinazione. E tornò nella sala visite con l'attrezzatura necessaria. L'odore sterile di antisettico aleggiava pesantemente nell'aria dei corridoi dell'ospedale. Mescolandosi al morbido ronzio delle luci fluorescenti. La quiete. Tuttavia. Fu infranta da una voce stridula proveniente da una delle sale di visita. Emily si trovava appena dentro la porta. Il suo volto si contorse in segno di disgusto mentre guardava Nate. Che ci fai qui? Sei sporco. Questo ospedale è per le persone, non per i maiali come te. Nate, in piedi accanto al letto dove il bambino giaceva avvolto in una coperta. Trasalì alle sue parole. I suoi occhi si spostarono nella stanza alla ricerca di qualsiasi segno di aiuto. Per favore. Ha bisogno di un medico. È stata investita da un'auto. Non si sveglia. Gli occhi di Emily sfiorarono la piccola forma immobile sul letto. Poi tornarono a Nate. Togliete quella cosa dal letto. Scattò. Indicando il bambino. Qui non trattiamo la gente come te. Prendi i tuoi sporchi soldi e battene. La disperazione gli incise i lineamenti. Nate si frugò in tasca e tirò fuori una manciata di monete che spinse verso Emily. O i soldi? Per favore aiutala. Emily indietreggiò. Il suo volto si contorse per il disprezzo. Toglimi le tue sporche mani di dosso. Gridò. Allontanando la mano di lui e facendo spargere le monete sul pavimento. Pensi che questo sia sufficiente? Credi che la cureremo per questo? Fece un gesto verso le monete sparse, con la voce grondante di disprezzo. Nate si mise in ginocchio. Cercando di raccogliere le monete. Le mani gli tremavano mentre cercava di raccoglierle. Le lacrime si mischiavano alla sporcizia del viso. Ti prego, ti supplico. Aiutala. La risata di Emily era fredda e dura. Sei patetico. Prendi i tuoi sporchi soldi e la tua sporca bambina e vattene. In quel momento la porta si aprì di scatto ed entrò il d'orre Chandler, il direttore dell'ospedale, con una maschera di irritazione sul volto. Cos'è tutto questo rumore? Lo sentivo in fondo al corridoio. Emily, la caposala, si raddrizzò immediatamente, con un'espressione di compiaciuta soddisfazione. Quest'uomo, indicò Nate, è piombato qui con una bambina, chiedendo che la curassimo. Non ha l'assicurazione e non ha i mezzi per pagare. Gli ho detto che non serviamo persone come lui. Nate si mise accanto al letto dove la bambina giaceva a volta in una coperta. Con gli occhi spalancati dalla disperazione. Per favore, è stata investita da un'auto. Ha bisogno di aiuto, implorò. L'espressione di Chandler era fredda e inflessibile. Ha qualche forma di pagamento o di assicurazione, chiese, con un tono privo di qualsiasi compassione. Nate scosse la testa, con la voce incrinata. Ha un po' di soldi, ma non molti. Per favore, ha bisogno di un medico. Interloqui Emily con un sorrisetto. Ha cercato di darmi una manciata di monete sporche. È patetico. La pazienza di Chandler si stava esaurendo. Questo è un ospedale privato. Non trattiamo casi di carità. Portatela in una clinica pubblica. La disperazione di Nate cresceva e la sua voce si alzava. È solo una bambina. Vi prego, vi supplico. È stata investita da un'auto. Il volto di Chandler si indurì. Non mi interessano le tue scuse. Questo ospedale ha degli standard. Ora se ne va da prima che la faccia allontanare. In quel momento apparve Wendy, con il volto arrossato dalla rabbia. Cosa sta succedendo qui? Chiese. Guardando da Nate a Chandler. Chandler si voltò verso di lei, con un tono autorevole. Quest'uomo ha portato qui un bambino senza assicurazione né mezzi per pagare. Deve andarsene. Gli occhi di Wendy lampeggiarono di rabbia. Dici sul serio, Chandler? Questo bambino ha bisogno di cure mediche. Non possiamo semplicemente respingerlo. Lo sguardo di Chandler rimase freddo. Questo non è un ente di beneficenza, Wendy. Abbiamo delle regole per un motivo. Se iniziamo a curare ogni vagabondo che entra, perderemo i nostri clienti paganti. Wendy si avvicinò, con la voce tremante per l'emozione. E il nostro giuramento di aiutare i bisognosi? Non potete ignorarlo solo perché è scomodo. Il volto di Chandler si oscurò. Non farmi la predica sui giuramenti. Conosco le mie responsabilità e in questo momento la mia responsabilità è verso questo ospedale e la sua reputazione. Wendy scosse la testa e la sua voce si abbassò a un sussurro. Pensavo che fossi migliore di così. Pensavo che ti importasse. La mascella di Chandler si strinse. Ora mi importa di questo ospedale. O appoggi la mia decisione o trovi un altro posto dove lavorare. Nath, ancora aggrappato al letto, guardò tra loro, con gli occhi spalancati dalla disperazione. Ti prego, ti supplico, aiutala. Chandler si rivolse a Emily. Chiama la sicurezza e fallo allontanare e fai disinfestare immediatamente la stanza. Emily a Nui, prendendo il telefono. Nath si fece avanti, con la voce rotta, ti prego, guardala, sta morendo. Chandler gli voltò le spalle. Esci subito. Wendy si spostò per bloccare il cammino di Chandler, con gli occhi fiammeggianti. Non meriti di essere un medico. Come puoi essere così senza cuore? Chandler la guardò, con un'espressione illegibile. Spostati, Wendy? Non rendere le cose più difficili del necessario. La voce di Wendy era fredda e ferma. Non posso amare qualcuno che non dà valore alla vita umana. Non sei l'uomo che pensavo fossi. Con ciò, si voltò e se ne andò, lasciando Chandler in piedi nel corridoio. Con un'espressione di shock e confusione sul volto. Nate. Vedendo la sua ultima speranza allontanarsi, raccolse il bambino tra le braccia e si diresse verso la porta. Passando accanto a Chandler, sussurrò, ti prego, non lasciarla morire. Chandler non rispose. Rimase lì, radicato sul posto. Mentre l'eco dei passi di Wendy si affievoliva lungo il corridoio, Chandler finalmente ruppe il silenzio, con voce bassa ma ferma. Emily, chiama la squadra di pulizia. Questa stanza deve essere disinfettata. Emily Annui. Emily Annui. La sua espressione era di cupa soddisfazione. Subito, signore. Mentre il personale dell'ospedale si muoveva per eseguire gli ordini di Chandler, Nate uscì dall'ospedale. Con il peso della sua disperazione che quasi lo schiacciava. A punto teneva stretta la bambina, sperando contro ogni speranza che qualcuno da qualche parte l'avrebbe aiutata. A punto nel corridoio, Chandler fissava lo spazio vuoto in cui si trovava Wendy, con la mente in preda a pensieri ed emozioni contrastanti. Solo allora, la voce di Chandler si indurì e disse, Wendy, sono il tuo capo e anche il tuo fidanzato, ma se non riesci a seguire le regole dell'ospedale, non avrò altra scelta che lasciarti andare. Wendy si fermò e si voltò indietro, con le lacrime agli occhi ma con una fermezza d'acciaio. Se seguire il regolamento significa allontanare un bambino morente, allora non voglio più far parte di questo posto. Chandler la guardò allontanarsi. Sentendo il peso della sua autorità scontrarsi con le sue convinzioni personali. Il corridoio fuori dalla sala visite era pieno di tensione. Il volto di Wendy era un misto di rabbia e frustrazione mentre si allontanava da Chandler, con passi decisi e rapidi. Wendy, aspetta. Chandler la chiamò. Affrettandosi a raggiungerla punto le afferrò delicatamente il braccio, cercando di farla smettere. Per favore, parliamo. Lei si liberò del braccio e lo affrontò, con gli occhi ardenti. Parlare di cosa, Chandler? Di come puoi voltare le spalle a un bambino che sta morendo. Sei un medico punto come puoi essere così senza cuore. Chandler si passò una mano tra i capelli. Non è così semplice. Questo ospedale, la mia carriera. Ci sono voluti anni per arrivare fin qui. Non posso buttarli via così. Wendy incrociò le braccia. Con un'espressione fredda punto quindi la tua carriera è più importante di salvare una vita, di fare ciò che è giusto? Chandler aprì la bocca per rispondere, ma il telefono iniziò a ronzare incessantemente nella tasca. Guardò lo schermo e vide che era sua madre a chiamarlo punto infastidito, declinò la chiamata. Ma il telefono ronzò immediatamente di nuovo. Chi è? Chiese Wendy con tono deciso. Mia madre, Chandler, borbottò, silenziando di nuovo il telefono. Chiama sempre per qualcosa di banale punto il telefono squillò una terza volta e la pazienza di Chandler si spezzò. Dannazione. Imprecò, premendo il tasto di rifiuto con più forza del necessario. Gli occhi di Wendy si allargarono e lei fece un passo indietro punto il volto di Chandler si contorse per la frustrazione. Wendy, non si tratta di mia madre, ma del fatto che tu non capisci la pressione a cui sono sottoposto.Wendy scosse la testa, abbassando la voce a un sussurro. No, Chandler. Si tratta di te che scegli i soldi e la reputazione al posto delle vite umane. Non posso stare con qualcuno che dà più valore a queste cose che al proprio dovere di medico. Il cuore di Chandler affondò quando vide la determinazione negli occhi di Wendy. Cosa stai dicendo? Sto dicendo che ho chiuso. Wendy rispose con voce ferma. Non posso più lavorare qui e non posso stare con qualcuno che non condivide i miei valori punto mi licenzio da Chandler, lascio questo ospedale. E tu, prima che lui potesse rispondere, Wendy si girò e se ne andò, facendo risuonare i suoi passi lungo il corridoio. Chandler rimase lì, stordito e impotente. A guardare la donna che amava uscire dalla sua vita punto la pioggia battente fuori dall'ospedale insuppava Nate che stringeva al petto la piccola figura coperta. Si sedette appena fuori dall'ingresso, tremando per il freddo e per la paura punto le luci sterili dell'ospedale brillavano con forza contro il pavimento bagnato. Proiettando lunghe ombre punto una corposa guardia di sicurezza si avvicinò al suo volto, con un'espressione severa. Ehi, non puoi stare qui, muoviti. Abbaiò, allungando la mano per afferrare il braccio di Nate. Nate indietreggiò, stringendo la bambina. Per favore, ha bisogno di aiuto punto implorò. Con la voce che si incrinava per la disperazione punto la guardia strinse la presa, pronta a trascinare via Nate. Quando Wendy apparve all'ingresso. Aspetta. Chiamò, spingendosi in avanti. Cosa sta succedendo qui? La guardia si girò verso di lei, tenendo ancora strettonate. Questo ragazzo si aggirava qui punto deve andarsene punto Wendy si inginocchiò accanto a Nate. I suoi occhi si addolcirono quando vide la paura e la disperazione incise sul suo volto. È qui per chiedere aiuto? Vediamo prima cosa sta succedendo. Proprio in quel momento apparvero Emily e Chandler punto le loro espressioni erano un misto di fastidio e autorità punto cosa sta succedendo qui? Chandler chiese. La sua voce è fredda e inflessibile. Quest'uomo era seduto fuori con un bambino. La guardia spiegò. Stavo per portarlo via. Bene. Emily scattò. Non ha alcun diritto di stare qui punto Wendy si alzò in piedi affrontando direttamente Chandler. Non possiamo buttarlo fuori. Il bambino ha bisogno di cure mediche. Gli occhi di Chandler si restrinsero. Ne abbiamo già parlato, Wendy. Questo è un ospedale privato punto Nate alzò lo sguardo verso Chandler, con la voce tremante. Ti prego, guardala. Respira a malapena. Il volto di Chandler si indurì punto non mi interessano le tue scuse, devi andartene subito, disse, facendo cenno alla guardia di allontanare Nate con la forza. Wendy si mise in mezzo a loro, alzando la voce punto Chandler, non puoi farlo. Questo bambino potrebbe morire. Emily incrociò le braccia, con un'espressione compiaciuta. Questo non è un nostro problema. Abbiamo pazienti paganti a cui pensare. Wendy si girò verso Emily, con gli occhi fiammeggianti punto come puoi essere così senza cuore. Abbiamo giurato di aiutare chi ha bisogno. La pazienza di Chandler si spezzò. Basta, andate via prima che chiami la polizia. Prima che Nate potesse rispondere. Una voce di donna, trafelata e in preda al panico, squarciò la tensione punto Chandler, fermati. Tutti si voltarono per vedere una donna anziana che ansimava e si stringeva il petto, lottando per riprendere fiato. Devi ascoltarmi, ansimò. Il volto di Chandler si contorse per la frustrazione punto madre, che ci fai qui? Dovresti badare a mia figlia. La donna scosse la testa, con le lacrime che le rigavano il viso. È quello che ho cercato di dirle? Se n'è andata? Ti ha seguito stamattina punto non l'ho trovata da nessuna parte. La presa di Chandler su Nate si allentò e il suo volto impallidì. Cosa vuoi dire? Se n'è andata? Gli occhi di Wendy si allargarono per la consapevolezza. Guardò la piccola figura coperta tra le braccia di Nate. Poi di nuovo c'è andò e darò mio dio, Chandler, è tua figlia. Il mondo di Chandler sembrò fermarsi. Lasciò Nate, con le mani che tremavano mentre prendeva la coperta punto con delicatezza la tirò indietro. Quel tanto che bastava per vedere il volto familiare di sua figlia, pallida e senza reagire. No, 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 sussurrò, con la voce rotta. Com'è potuto accadere? Wendy gli afferrò il braccio, riportandolo alla realtà a punto dobbiamo portarla subito dentro. Chandler annui, la sua mente correva mentre sollevava con cautela sua figlia dalle braccia di Nate punto si precipitò all'interno dell'ospedale, con Wendy e sua madre alle calcagna, lasciando Emily e la guardia di sicurezza in piedi in un silenzio attonito. Le luci sterili e l'attività frenetica del pronto soccorso li abbolsero punto Chandler abbagliava ordini, la sua voce era piena di un misto di autorità e disperazione. Ho bisogno di una squadra di traumatologi qui, subito, preparate una o Wendy rimase vicina, la sua presenza era una forza che li rassicurava. Faremo tutto il possibile. Chandler punto mentre l'equip medica si accalcava intorno a sua figlia, Chandler provò una fitta di colpa e di vergogna. Era stato così accecato dalle politiche e dalle procedure che aveva quasi respinto la sua stessa figlia punto la consapevolezza lo colpì duramente. Ma non poteva permettersi di rimuginarci sopra. Nel turbinio di attività, incrociò lo sguardo di Wendy. Lei annui, una silenziosa rassicurazione che stavano facendo la cosa giusta punto per la prima volta dopo tanto tempo, Chandler sentì un guizzo di speranza punto in mezzo al caos che regnava fuori dalla stanza, sua madre era in piedi connate, con gli occhi pieni di lacrime e di sollievo. Chandler era seduto nella sterile sala d'attesa fuori dal pronto soccorso, con la testa tra le mani punto gli eventi dell'ultima ora lo avevano scosso nel profondo. Sua madre era seduta accanto a lui, con la mano delicatamente appoggiata sulla sua spalla. aveva insistito per venire con lui nonostante la sua fragilità punto Chandler, disse sua madre con dolcezza, c'è qualcosa che devi sapere punto lui al solo sguardo, con gli occhi rossi e stanchi. Cosa c'è, mamma? Lei fece un respiro profondo. Con il volto segnato dalla preoccupazione. Ho controllato i filmati delle telecamere di sicurezza di casa. Spiega quello che è successo stamattina punto il cuore di Chandler batteva forte nel petto mentre ascoltava la madre raccontare gli eventi. Il sole aveva appena iniziato a sorgere, proiettando una luce pallida sulla tranquilla strada di periferia punto Chandler, vestito in modo impeccabile con il suo abito su misura, camminava spedito verso la sua auto, con la valigetta in mano, preoccupato dai pensieri per la giornata che lo attendeva punto non si accorse che la sua giovane figlia, con un luccicchio malizioso negli occhi, stava sgattaiolando fuori di casa dietro di lui. Le piaceva giocare a nascondino e oggi aveva deciso di nascondersi dietro l'auto del padre punto mentre Chandler si avvicinava al lato del guidatore, la sua mente era altrove. Gettò la valigetta sul sedile del passeggero e salì in macchina, avviando il motore senza a pensarci due volte.L'auto prese vitali, mentre Chandler inseriva la retromarcia, sentì un leggero urto, si accigliò, pensando di aver urtato un giocattolo o forse un piccolo ramo. Ma quando guardò nello specchietto retrovisore, non vide nulla di strano punto scuotendo la testa, mise in moto e si diresse al lavoro. Completamente ignaro della tragedia che si era appena consumata dall'altra parte della strada.Nate aveva assistito all'intero incidente. Era seduto sul marciapiede a riflettere sulla sua prossima mossa quando vide la bambina sfrecciare dietro l'auto.Il cuore gli batteva forte quando si rese conto di ciò che stava per accadere. Ma era troppo lontano per fermarlo.Quando Chandler si allontanò, Nate si precipitò a cercare la bambina che giaceva immobile a terra.Il panico lo attraversò mentre la prendeva delicatamente in braccio, avvolgendola nel suo cappotto a brandelli.Senza esitare, iniziò il lungo viaggio verso l'ospedale, sperando di salvarle la vita.Tornato nel presente. Il volto di Chandler divenne cinereo quando si rese conto del peso delle parole di sua madre.Era stato lui a fare del male a sua figlia e, nella sua ignoranza e aderenza alla politica ospedaliera, le aveva quasi rifiutato le cure di cui aveva disperatamente bisogno. «Oh mio Dio!» sussurrò, con voce appena udibile.Come ho fatto a non saperlo? Sua madre gli strinse la spalla, con gli occhi pieni di lacrime. «Non lo sapevi, Chandler. È stato un incidente, ma ora devi rimediare.Nella sterile sala d'attesa fuori dal pronto soccorso regnava un silenzio teso. Scandito solo dal bip occasionale delle apparecchiature mediche.Nate era seduto ingobbito su una sedia di plastica, con i vestiti zuppi e sporchi e il volto coperto da una maschera di preoccupazione. La madre di Chandler stringeva forte la mano del figlio.Con gli occhi arrossati dal pianto.Chandler si trovava a pochi metri di distanza e fissava il pavimento.Perso in un turbine di sensi di colpa e rimpianti. La consapevolezza di ciò che era accaduto quella mattina si ripeteva nella sua mente.In un crudele loop di disperazione.era stato lui a fare del male a sua figlia e, nella sua cieca adesione alla politica, aveva quasi rifiutato le sue cure. Camminava avanti e indietro, con la mente in preda all'autocritica.Come ho potuto essere così cieco?Mormorò tra sé e sé, passandosi le mani tra i capelli per la frustrazione.Sono un medico, per l'amor di Dio.Il mio lavoro è salvare vite, non respingere le persone.Sua madre lo guardò, con un'espressione mista di preoccupazione e dolore.Chandler, per favore.Siediti, devi calmarti.Chandler scosse la testa, incapace di trovare conforto.Non posso, mamma.Non posso credere di aver quasi lasciato morire mia figlia perché ero troppo concentrato su politiche e procedure.Che razza di medico sono?Alla fine, Chandler fece un respiro profondo e si avvicinò a Nate.I suoi passi erano esitanti, il suo cuore pesante.Nate, cominciò.Con la voce tremante.Non so come iniziare a scusarmi.Ho sbagliato.Nate al solo sguardo, gli occhi pieni di un misto di dolore e rabbia.Non toccarmi, disse, con la voce roca.Non voglio sporcarti.Gli occhi di Chandler si riempirono di lacrime.Ti prego, Nate.Mi dispiace tanto per quello che ho fatto.Non sapevo, non capivo.Ti prego, perdonami.L'espressione di Nate si ammorbidì leggermente quando vide il genuino Remmore negli occhi di Chandler.Non ti interessava capire, rispose lui, con voce più pacata ma ferma.Mi hai giudicato senza conoscere la verità.Chandler annui, mentre le lacrime gli rigavano il viso.Hai ragione, ho sbagliato e mi dispiace tanto.Farò di tutto per sistemare le cose.Ti prego, lascia che ti aiuti.Nate esitò un attimo prima di allungare la mano per afferrare quella di Chandler.Assicurati che stia bene, disse a bassa voce.È l'unica cosa che conta.Chandler si inginocchiò accanto a Nate, con il corpo che tremava per i singhiozzi. Non merito il tuo perdono, disse, con la voce strozzata dall'emozione. Ho fallito con te. Ho fallito come medico e come padre.Nate diede una pacca sulla spalla di Chandler, mentre i suoi occhi si riempivano di lacrime.Puoi ancora rimediare.Concentrati su di lei.Adesso.Chandler annui, asciugandosi il viso con il dorso della mano.Si alzò in piedi, con una determinazione sempre più forte.Farò tutto il possibile per salvarla, giurò.Non la deluderò mai più.Mentre stavano lì, la porta del pronto soccorso si aprì e Wendy ne uscì, con il volto pallido ed esausto.Li guardò, con gli occhi pieni di dolore.Mi dispiace.Disse dolcemente.Ho fatto tutto quello che potevo.Il mondo sembrò fermarsi.Mentre le sue parole rimanevano sospese nell'aria, le gambe di Chandler cedettero e lui crollò a terra.S'inghiozzando in modo incontrollato.Il parco era sereno nella prima luce del mattino.Con il sole che gettava una tonalità dorata sull'erba baciata dalla rugiada.Chandler e Wendy passeggiavano lungo un sentiero tortuoso, senza fretta.Ammirando la tranquillità dell'ambiente circostante.Gli uccelli cinguettavano in lontananza e il leggero fruscio delle foglie faceva da sfondo alla loro conversazione.È incredibile quanto sia cambiato in un solo anno, osservò Wendy, con la voce piena di tranquilla soddisfazione.L'ospedale sembra un posto completamente diverso.Chandler a noi, con un'espressione riflessiva.È vero, e non si tratta solo delle politiche, ma dell'atmosfera, del modo in cui il personale interagisce con i pazienti.C'è un vero senso di compassione e di impegno.Wendy sorrise, guardandolo con ammirazione.Hai fatto un lavoro straordinario, chander.Non è stato facile cambiare le cose, ma sei rimasto fedele alla tua promessa.Lui sospirò, lo sguardo fisso su un gruppo di bambini che giocavano in lontananza.Non sono stato solo io.Sei stato al mio fianco in tutto questo.L'aver avviato insieme il fondo di beneficenza ha fatto la differenza.Siamo riusciti ad aiutare tante persone che prima sarebbero state respinte.Gli occhi di Wendy scintillavano d'orgoglio.Il nostro fondo per le cure compassionevoli ha davvero trasformato delle vite.Il sostegno della comunità è stato incredibile.La gente sta ricominciando a fidarsi dell'ospedale e la nostra reputazione di gentilezza e professionalità si sta diffondendo.La loro conversazione fu interrotta da una voce che, chiamava Chandler.Chandler si girò e i suoi occhi si allargarono per la sorpresa e la gioia.Lì, seduta su una sedia a rotelle con una leggera coperta sulle gambe, c'era sua figlia.Sembrava più sana e felice di quanto l'avesse vista da tempo.Dietro di lei stava nate, ora vestito con abiti puliti e ben aderenti, con l'aria orgogliosa e speranzosa che Chandler provava.Papà.Esclamò la bambina, il cui viso si illuminò di un sorriso luminoso.Chandler si precipitò.Inginocchiandosi accanto a lei e prendendole le mani tra le sue.Tesoro, stai benissimo.Come ti senti?La bambina lo guardò raggiante.Mi sento molto meglio, papà.Nate mi ha aiutato molto.Chandler si alzò e guardò Nate, con gli occhi pieni di gratitudine.Nate, non potrò mai ringraziarti abbastanza per tutto quello che hai fatto.Sei stato un miracolo per noi.Nate scosse la testa con modestia.No, Chandler, è stato un lavoro di squadra e vostra figlia è una combattente.Con una terapia continua, credo che un giorno tornerà a camminare.Gli occhi di Chandler si riempirono di lacrime.Continueremo a lavorarci insieme.Grazie per essere stato presente per lei e per noi.Wendy li raggiunse.Posando una mano rassicurante sulla spalla di Chandler.Abbiamo fatto tanta strada, e continueremo ad andare avanti insieme.Mentre si trovavano nel parco.Il futuro sembrava più luminoso che mai.Avevano affrontato sfide immense e sofferenze, ma ne era scaturito un nuovo inizio costruito sulla compassione.Sul lavoro di squadra e sull'incrollabile dedizione ad aiutare gli altri.In quel momento, circondato dal calore di amici e familiari.Chandler sapeva che avrebbero continuato a fare la differenza nel mondo.Un passo alla volta.Chandler guardò sua figlia.Con le lacrime agli occhi.In quest'ultimo anno ho imparato molto sull'essere medico e sull'essere padre.Ho rischiato di perderti perché ho dimenticato ciò che conta davvero, ma ti prometto che non lo dimenticherò mai più.Sua figlia si avvicinò e gli toccò la guancia.Le sue piccole dita asciugarono una lacrima.Va tutto bene.Papà, ora siamo insieme.Chandler fece un respiro profondo.Con il cuore gonfio di gratitudine e determinazione.Sì.Siamo insieme e faremo in modo che altre famiglie non debbano passare quello che abbiamo passato noi.Si rivolse a Nate, con voce ferma.Sei stato di incredibile aiuto.Le hai salvato la vita quando io non riuscivo a vedere oltre la mia arroganza.Le hai dato speranza e mi hai mostrato il tipo di medico che devo essere.Gli occhi di Nate si addolcirono e annui. Abbiamo tutti imparato qualcosa di importante e abbiamo tutti un ruolo da svolgere per migliorare le cose.Wendy guardò entrambi gli uomini, con gli occhi che brillavano di orgoglio. Abbiamo costruito qualcosa di straordinario insieme.L'ospedale sta prosperando, non solo grazie alle politiche che abbiamo cambiato, ma anche grazie alle persone che abbiamo ispirato. Il nostro fondo per le cure compassionevoli è diventato un faro di speranza per molti.Chandler sorrise, provando un profondo senso di realizzazione.È solo l'inizio, continueremo a spingere, a sforzarci di essere migliori per i nostri pazienti, per la nostra comunità e per gli altri.In quel momento, circondato dal suono delle risate e dalla bellezza di un nuovo giorno, Chandler ha provato un rinnovato senso di determinazione.Gli era stata data una seconda possibilità ed era determinato a sfruttarla al meglio per sua figlia, per i suoi pazienti e per il futuro che stavano costruendo insieme.Guardando sua figlia sorridere e ridere, Chandler sapeva di essere.Sulla strada giusta.Un passo alla volta, stavano andando avanti, guidati dalla compassione, spinti dall'amore e ispirati dalla speranza.Grazie a tutti per essere rimasti fino alla fine di questa storia.Non è stata commovente e stimolante.Questa storia mette davvero in evidenza l'importanza della compassione e gli incredibili cambiamenti che può portare nelle nostre vite e in quelle di chi ci circonda.Storie come questa.Ricordano che anche nei momenti più bui c'è sempre speranza e gentilezza.Il viaggio di Chandler da medico rigido e orientato alla politica a essere umano compassionevole ed empatico ci dimostra che non è mai troppo tardi per cambiare e fare la differenza.Inate.Con il suo gesto altruistico.Ci insegna che la vera gentilezza non conosce confini.Alla fine, tutto si riduce a questa semplice verità.Dio benedice coloro che hanno un cuore gentile e sono disposti ad aiutare gli altri.Quando tendiamo la mano a qualcuno che ha bisogno, non solo cambiamo la sua vita.Ma arricchiamo anche la nostra.È un bellissimo ciclo di dare e ricevere che ci avvicina allo scopo divino dell'amore e della compassione.Prendiamo dunque a cuore questa lezione e sforziamoci di essere più comprensivi e solidali nella nostra vita quotidiana.Ricordate.I vostri piccoli atti di gentilezza possono fare la differenza.Se vi è piaciuta questa storia e volete sentirne altri simili.Non dimenticate di premere il pulsante mi piace e di iscrivervi al canale.Attivate le notifiche per non perdere mai queste storie commoventi.Continuiamo a diffondere, positività e a rendere il mondo un posto migliore, una storia alla volta.Grazie a tutti per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video.Siate benedetti, siate gentili e continuate a diffondere amore.